L'emozione del gruppo Tocci. In piazza Comesticoli ormai siamo con l'estate e quindi l'opportunità di aprire questo nuovo negozio che in pratica tratterà oggettistica, articolo e regalo e buon voglio. Odoro. E allora questa nuova attività? Si tratta comunque di una nuova idea che è già venuta, vedendo un po' l'entusiasmo di tutto lo Stato, perché comunque tendenzialmente si tratta di qualcosa di nuovo per noi, che certo si sembrava già da parecchio, ma comunque si è realizzato il gruppo e con questo gruppo stiamo raggiungendo comunque tanti obiettivi, fra questo anche il negozio di aggettisti, insomma è stata la nostra idea. Una idea nuova. Si, si tratta di qualcosa di nuovo, anche se di nuovo non c'è perché comunque ci sono diversi e stessi attività, però abbiamo scelto delle aziende che in nostra zona mancavano andando comunque a puntare sulla qualità e qualcosa di particolare, insomma. Francesco, diciamo le bomboniere, dato l'attività, diciamo, dall'inizio dell'attività, al paureo, come si direbbe. Allora, come mai questa nuova attività, questa idea, ecco? Beh, diciamo, il gruppo d'occi era conosciuto soltanto per il fume, però adesso ci siamo spostati, ci siamo diversificati, diciamo, anche sull'aggettistica, sulle bomboniere e possiamo curare anche le varie cerimonie che possono essere le battesime, le comunioni, decresime, eccetera, eccetera. Da qui anche comunque il nuovo emozione, in fine vi attivito comunque il nuovo emozione è appunto per trasmettere una nuova concezione che per noi potrebbe essere anche fornire un qualcosa che prima non facevamo, comunque legato a degli eventi piacevoli sostanzialmente, a degli eventi emozionanti, insomma, per tutto. Il piazzo comestibile è la nuova piazza della città, no? La piazza che cerca, il rilancio, voi insieme alla piazza. E noi ci abbiamo scommesso, sicuramente. Bene, grazie e lo calmo. Naturalmente noi si può trovare anche questo negozio su Facebook, alle pagine di Facebook e quindi si possono ottenere tutte le informazioni per questa nuova attività. Assolutamente così. Grazie. Grazie.